Presidente Beci, oggi la Camera di Commercio di Pescara ha premiato 81 aziende che rappresentano un po' il meglio che può offrire la ricettività della nostra provincia e anche per quanto riguarda la ristorazione e le tipicità della nostra provincia. Assolutamente corretto quello che ha detto. È una specie di esame a cui si sottopongono le aziende dei vari settori, come lei diceva bene nella sua premessa. È un modo per elevare i propri standard, la propria qualità, sottoporsi a questo esame dove persone altamente specializzate vanno a verificare che i servizi erogati siano a livello e di altissima qualità. Il sistema camera italiano ha molto incentivato questo, insieme all'ISNART ha molto incentivato questa assegnazione di questo marchio perché c'è la necessità in un mercato che chiede sempre standard più alti, avere delle strutture sempre più adeguate alle richieste del mercato. L'obiettivo di queste aziende è quello di migliorare sempre. Guardi, oggi il turismo internazionale che sia una piccola struttura, una grande struttura, che sia un piccolo ristorante, una trattoria, richiedono standard di eccellenza. Bisogna assolutamente essere adeguati alle norme, alle leggi, per cui sottoporsi a questo tipo di esame, tra parentesi si paga per essere sottoposti a questo tipo di esame, vuol dire essere attenti all'esigente di un mercato che è di grandissima importanza per il nostro paese. Grazie.